La Buffon Academy è sbarcata per la prima volta in Sardegna con le Player Clinics. La scuola per giovani portieri, istituita dal famoso numero 1 toscano, ha iniziato il suo turno in l'isola ieri a Sassari, nel centro sportivo di Lipunti, dove tanti giovanissimi dagli 8 anni in su si sono messi alla prova sotto la guida del direttore tecnico nazionale Cristian Ferrante e i coach Matteo Trini e Filippo Raggiù, che hanno mostrato loro le tecniche fondamentali per diventare dei portieri di buon livello. L'iniziativa ha riscosso un gran successo e per tutti i partecipanti si è trattata di una splendida esperienza. La Buffon Football Academy è nata in primis direttamente da Gigi, che ha voluto fortemente creare questa accademia insieme al suo storico preparatore, dove hanno creato un metodo di allenamento specifico su quella che era la tecnica del portiere. Quindi si va ad analizzare i sei aspetti principali di un portiere, quindi dalla tecnica podalica all'uscita alta, alla parata in tuffo e a tutte le altre tecniche che ci sono. Per poi avere quindi un insieme completo di quello che è un allenamento Buffon Academy. Gigi in primis ha avuto questa accademia per permettere ai ragazzi di avere lo stesso allenamento che ha avuto lui, quindi farlo diventare il numero uno al mondo. Abbiamo attualmente attive tre accademie e chissà che in un prossimo futuro riusciamo ad aprire anche qua in Sardegna. Questo è sicuramente uno dei prossimi obiettivi anche della Buffon Football Academy. I prossimi due appuntamenti sono fissati per l'11 e il 12 maggio a Siniscola e il 13 maggio a Olbia. Ad oggi le iscrizioni complessive sono oltre 100.